Ciao amici di Reincast, bentornati. Ogni tanto arriviamo con uno che salva Reincast. Ma tipo l'ingegnere oggi, gli abbiamo anche detto che registrava. No, tu lo devi dire, è il tuo compito, quello di avvisare gli altri. Vabbè, Michele se ci stai ascoltando puoi venire. Ti chiediamo scusa ufficialmente, grazie Iaci, ti chiediamo scusa per Tommaso. Contatta Vito che ti darà sicuramente il link che continua a cambiare ogni volta, infatti non riusciamo a trovarci. Seleziona l'ingresso. Sarà cambiato, tipo una volta in due anni deve farvi cagare il cazzo. Due volte, due volte negli ultime due settimane secondo me. Allora, prima di tutto volevo farvi vedere questo che è molto bello, l'ho appena comprato. No, il pene no. L'artbook di Blasphemous 2, è più bello del gioco, questo ve lo posso garantire. No, in realtà, Blasphemous 2 è abbastanza bello, però ha dei picchi di difficoltà un po' frustrati. Ma perché giochi quella roba tu, Tommaso? Non è per te, tu devi giocare quelli che faccio io, quelli che pulisci il sangue sui tappeti. Sono bei giochi, sono adattissimi a te, mi sono divertito come un pazzo. A me i metri di bani mi piacciono, comunque vabbè, e poi non sono capace. Allora, niente, dopodiché, allora, un'informazione di servizio. Dallo scorso episodio, chi ha sentito le comunicazioni varie, rincastè su Spotify. Chi ci supporta con del denaro suonante, visto che tutte le precedenti donazioni sono state fondamentalmente annullate, avrà l'episodio audio del podcast in anticipo di tre giorni, ascoltabile su Spotify. Quindi abbiamo l'early access per le puntate del podcast. Poi poco conta che esce un episodio ogni 40 giorni, quindi non vi cambia niente. Però, se ci supporta... Come vendi tu le cose, però, Tommaso... Ah, intanto, comunque abbiamo una costanza che non credo abbiamo mai avuto così nella vita da un po' d'anni. No, a volte a me sta uscendo, ragazzi. Dopodiché, tutti gli episodi extra, anche adesso, sono dietro il paywall. Quindi, chi se li ascoltate, chi se li ascoltate. E chi se li vuole ascoltare, perché non li ascoltate... Sucate, vaffanculo! Sucate, oppure cacciate un po' di supporto, che qua le cose... Vanno a marchi e vi fa un baffo, vi fa... Esatto. Quindi, tutti gli episodi extra, inclusi quelli dei viaggi... Infatti, devo chiedere a Marco, forse quello della Polinesia lo posso lasciare... Della Papua Nuova Guinea, scusa, lo posso lasciare aperto, perché quello era un po'... Non lo lasciare aperto, perché l'altro giorno da lui chiedevano, quindi molti... Abbiamo messo il link, quindi molti ci vanno adesso e lo trovano bloccato. E secondo te mi li danno 3 euro al mese per ascoltare quella puntata. Forse sì, forse sì, perché... È Marco Mottura, sai, che è un... Ha un pubblico di gente benestante. Personaggio di un certo livello. Marco Mottura che uccide delle tartarughe abbastonate e caccia gli squali, quindi sono delle cose un po' particolari, che un po' anche incriminati, secondo me. Attenzione, è arrivato? Uno me l'avevano mandato prima, perché non me l'ha mandato a me quel pezzo di fango, che era questo che mi ha mandato Franz. Allora, aspetta, lo descrivo perché ci ascolterà in podcast, magari anche pagando. Vito ha preso in mano Pixel, che è la rivista, cioè non è una rivista, è un libro monografico, anzi no, non è monografico, non so su qual è l'argomento. Sono articoli... Tema videogiochi, però va di molto presa alla larga, insomma. Non c'è un tema comune. Di grande qualità, perché come stampa mi pare tipo uno dei giochi di ruolo che faccio io, praticamente. Artisticamente molto molto bello. Il pre-order... Poi dentro c'è un pezzo di mottura, quindi il livello cala un po', però tendenzialmente è bello. Ecco, io a mottura ho ordinato i calzini, tu li hai ordinati i calzini? No. Se li calzini li hanno più. Non so se li abbiano spediti, credo di no. Ho casa piena di cazzate di round two, quindi direi anche basta. Basta, insomma. Io attendo questi calzetti, mi sono costati 60 euro. Speriamo che siano ben dei calzini. Quindi siamo a 5 minuti di puntata, abbiamo chiesto soldi su Spotify, di comprare la rivista di Final Round, i calzini, se volete anche. Io volevo sapere da Marco da quando si è trasformato in venditore di calzini, però purtroppo è impegnato ad andare alla zanzara. Si fa quel che si può per la famiglia. Facciamo vedere lui alla zanzara, si può? Che dite? Sì. Mica l'avranno nascosto. Sì, sarà bellissimo. È su TikTok della zanzara, quindi figurato. Ah, addirittura su TikTok. Dove sta, Tommaso? Aspetta. Quindi, attenzione, siamo su Twitch. Voi ci state ascoltando in podcast audio e Vito vi fa vedere uno stream di TikTok dove c'è Marco Mottura alla zanzara. Che fa il pubblico. Ma adesso stiamo spiegando al podcast. Ma benissimo a vedersela e poi nel podcast fanno il ripasso. Adesso dobbiamo veramente lavorare per tutti. Quindi, per completare tutto, Tommaso, devi fare la traduzione con la lingua dei segni? E' vero, se fai i sottotitoli. No, ma fa che bello. Ecco, bravo, mi hai dato un bel look perché su Spotify, se andate, fa anche la trascrizione di tutto quello che diciamo. Non benissimo, ma la fa. Quindi, se volete leggere tutto Rincas, potete anche, ormai anche un libro. Ecco, va bene. Fanno tutti questa cosa, la fa anche Substack, per esempio, la fa Instagram. Io sto scoprendo robe incredibili. Vedi, è l'intelligenza artificiale dove ci porterà. Va bene, allora, questo episodio che avevamo pensato di spostare dopo il partner showcase di Xbox domani, però alla fine abbiamo detto, no, non ce ne frega niente. In questo episodio parleremo di cose a caso. Grazie, Rock Rool. Grande trasformazione rispetto al solito, devo dire. Sì, sì. Allora, però ragazzi, voglio subito dire che ci siamo scordati la roba più importante del mese nella scaletta. Cioè? All'armo. All'armo, sì, è vero, cazzo. Me l'hanno ricordato in chat? Come abbiamo fatto? Cioè, una volta avremmo fatto la trasmissione. Io mantengo l'opinione che ho già espresso a te su Twitter. Non so, ma sono passati due giorni, secondo me se lo sono già dimenticati tutto. Ah, l'opinione qui non l'avevi capito un cazzo, però possiamo dirlo, Massimiliano. Va bene, allora dai, parliamo di allarmo. Allarmo. Allora, Nintendo anni fa aveva presentato un sensore che si attaccava al dito tipo molletta, che si chiamava Q-Life, me lo ricordo male. No, non mi ricordo. Ma lo presentò alle tre proprio, con un trailer a cazzo, era una delle robe insieme a qui. Parlate che trovo il nome. Sì, era una fase in cui Nintendo, con Wii e anche con DS, credeva in questa cosa del benessere, del benessere mentale e fisico, e quindi Iwata stesso, allora presidente, addirittura arrivò a presentare appunto questo sensore per il dito che in teoria doveva rilevare la frequenza cardiaca e quindi incidere anche sull'esperienza di gioco, o comunque andare a rilevare ulteriori parali. Non mi ricordo che l'avessero mai parlato come una roba di gioco, mi ricordo che era una roba salute, però era il momento in cui c'era la balance board e altre cazzate simili. Io ho trovato che era Wii Vitality, ma secondo me Wii Vitality, che effettivamente è una roba che ti metti sul dito e non è mai stata rilasciata, però l'avevamo presentata, credo che fosse basata su una roba ancora precedente, quindi sono anni e anni che vanno avanti questa roba dei sensori, eccetera. Comunque, in definitiva, quella roba lì non è mai uscita, ma finalmente abbiamo il suo degno successore spirituale, cioè all'armo. Che cos'è? Ti metti sul dito. Ti metti dove vuoi, insomma. Lo metti dove vuoi proprio, soprattutto. Vito, che cos'è? Siamo tutti esattamente dove. Allora, io sai che non mi sono informato moltissimo, però so che è una sveglia. È una sveglia con i temi di Nintendo e varie scenette di Nintendo, e poi c'è un sensore che, in base a come ti muovi dopo che è suonata la sveglia, ti risuona la sveglia, credo, no? Sostanzialmente ha un sensore che rileva se tu ti stai alzando, addirittura ogni movimento, c'è magari la monetina, il suono della monetina di Superman, Mario, o altri effetti ancora derivati da zello. Quando poi ti alzi dal letto, la sveglia lo rileva, smette di suonare, in sostanza. E ti rompi i coglioni finché tu ti muovi a letto. Sì, sì, a un certo punto arriva proprio anche la musica cattiva per dire, vabbè, sono passati 20 minuti, io sto ancora suonando, che vogliamo fare? Esatto, però attenzione. Però io sono uno di quelli che la fa suonare abbastanza, cioè a me piace dargli il suono dopo. Piace al suonare la sveglia. Io la metto alle 5 o un quarto, così ho un margine di un'ora e 15 minuti per svegliarmi. Quello che fai tu, Vito, è fantastico quando hai di fianco un'altra persona, quello è il top. Eh, non ce l'ho, io questo mi permette di essere molto... Allora, vedi, ecco, bravo, bravo, perché all'armo funziona solo se sei da solo, da solo come un cane, perché se hai un'altra persona e tu metti all'armo, sicuramente questa persona non rimarrà. Credo che il sensore a quel punto non capisca niente, quindi nel dubbio non fa nulla. Come hanno fatto notare in molti, è per nintendare, quindi non scopano, dai, mi sembra evidente questa cosa, e ci sta a farne uno per singolo. Sì, sì, no, infatti, cioè, giustamente, è targhettizzato all'audience giusta. Però, ecco, costa 100 euro e per comprarla bisogna essere abbonati a Switch Online, giusto per non farsi mancare niente. Ah, sì, non lo sapevo sta cosa. Non lo sapevo sta cosa, cioè se non sei a Switch Online non funziona. Sì, sì. Ma questo non è che non funziona, non puoi comprarla. Ah! Ma no, sarà stato un'anteprima per quelli di Switch Online, perché sapevano che andava esaurita e dopo la venderanno a tutti, dai. Vabbè, in questo momento per acquistare il prodotto serve l'iscrizione a pagamento. Ci può stare. Ma perché è un prodotto di grande, a grande richiesta, è come PlayStation 5 Pro Super Limited e ovviamente... E quindi sono regalata a 100 euro, ragazzi. Fa sorridere che Sony faccia la super console da 1000 euro. E Nintendo, abbiamo una sveglia. Sì, sì, a me fa ridere veramente, perché per PlayStation 5 Pro costerà una fraccorata di studio, di roba. 800 euro. E se ne lo deve costare 200 euro. 100 euro non ha sentito una lamentela. La gente faceva... Voglio un sensore, calzo, dai. Due, le vogliono due. C'ho tre figli, tre. O ti compri PS5 Pro o otto svegli Nintendo. Però quella è potenza del brand. Cioè, in questo momento, Nintendo può permettersi di fare una sveglia e non avere reazioni. Se oggi fa la stessa cosa a Sony, gli ritano in faccia. Sì, però anche perché PlayStation non si è mai rivolta in quel modo ai bambini, in sostanza, ai ragazzini. Perché comunque l'abbiamo visto anche nel video. Beh, in realtà nel video fa vedere quasi persone adolescenti, quasi adulte. Il target sono i bambini che hanno la lampada a muro di fianco. Ne parlavamo ieri, sì. Adolescente, mai adulta. Possiamo stare a stabilire questa ragazza. Quanto c'ha? Secondo me il pubblico però è... Cioè, ovviamente deve essere una roba che ci dà i bambini, dai. Ma sì, secondo me il target è quello. PlayStation non mi sembra nemmeno abbia mai fatto target appositamente... Prodotti appositamente... No, no, arzi. Arzi, arzi. Secondo me qua svegliò, come si chiama? Svegliò. All'arco. È bellissimo svegliò, però. Più bello di all'arco. Quella della... Della Jalapas che c'aveva Forkho, cucchiò, svegliò. Secondo me era uno degli oggetti che era la Cortellesi, forse, che faceva sta roba. Dunque, vabbè, svegliò è una sveglia per i padri che la comprono al limite per i figli. Eh, sì, è chiaro. Se la mettono in camera, la moglie li lascia, quindi... Cioè, però il target è la gente della nostra età. Insomma, il bambino di 4-5 anni, il rumore delle monetine di Mario... Che cazzo viene, prego, onestamente. Beh, non credo. Quelli piccoli non hanno un certo facile. Ci sono stati film, stanno un po' ricostruendo i suoi brand. I sette di Mario vanno a ruba di Lego. Sì, ma chi è che... Quindi vai a capire. Eh sì, quelli di Lego Mario sono proprio per piccoli. Anche perché sono... Per me li compri tu e poi ti dici... Eh, sono per piccoli, ma... No, non li compro per me perché sono per piccoli. Sono talmente per piccoli che non sono proprio adatti a me. Li comprano in internet per i miei figli. Pezzetti, cioè non ci fai quasi un cazzo. Eh, no, ma poi... Cioè, i bambini che ci giocano, gli piace, secondo me si è affezionale al brand. Allora, io il tuo passetto ufficiale di Mario a mio figlio l'ho comprato appena nato. Quindi... Ci sta. Tra l'altro c'è scritto non date le bambini prima dei tre anni e ce l'ha dato. Tu gliel'hai dato. Tu hai detto, se mi sopravvive vuol dire che è abbastanza forte. Ma infatti è un test. E l'ha buttato nella neve la prima notte dicendo, dai, questo è il test. Questa è la pillaglia. È equivalente spartano dei Nintendali. Cioè, gli dai il pupazzo di Mario se sopravvive. Eh, va bene. Ci sta, ci sta. Immagina andare da tua moglie. Malo non è sopravvissuto, dobbiamo farne un'altra. Non ha superato la prova. Ha mangiato il naso di Mario. Vabbè, comunque, la sta cazzata ce la siamo tolta dai. Comunque dal nulla. Nintendo, secondo me, ci sta provando l'Inna su tutto. Perché se... Io credo che... Lo dico, visto che abbiamo fatto già la cazzata con Switch, che non sia così facile replicare il successo di Switch. Loro lo sanno e si sono allargati ad altri tipi di esperienze. A palla di fuoco sui Lego al momento. Eh, parchi a tema e cinema. C'è poco da fare, però. Loro fanno il 95% dalle console, dai giochi, comunque. Quello che dici te per loro è guardate, c'è il film, allora ti compri il gioco di Super Mario. Guarda, andiamo all'Universal World. Sai che il film, secondo me, invece si è preso una bella percentuale? Perché il film avranno incassato un miliardo. Non ha incassato tanto, però... 500 milioni si è messi in tasca. No, di più, ma va. Ha superato un miliardo di incassi. Eh, lo so, però, se hai fatto un miliardo hai speso per il film, per la promozione. Ok, in quel senso lì. Però quello ti porta, secondo me, a vendere anche la roba poi dietro. Cioè, secondo me, è tutto un giro buono per loro. E allora, cosa ci aspettiamo dalla prossima... Cioè, quale sarà la prossima cosa che mi intendo? Ha fatto la sveglia. Il cazzo di Switch 2 sarebbe carino, nel senso, cioè, dopo un certo punto, a gennaio ti svegli, oh! Però, secondo me, il colpo di genio è che tutti che si aspettano ha l'annuncio di Switch 2 prima di Natale. Sveglia. Io non me l'aspettavo, però, eh. No, sta roba qui, effettivamente. Prima di Natale l'annuncio, no, questa è arrivata proprio, che non me l'aspettavo. Ah, no, dici l'annuncio. Non vai mai a rompere le palle al Natale, secondo me, alle vendite del Natale. Aveva senso a giugno, semmai, mai adesso. No, esatto. Però io non me l'aspetto neanche in uscita entro marzo, la nuova console. No, secondo me l'annuncio è entro marzo. È bravo. E poi mi aspetto, visto che difficilmente le fanno uscire a giugno, me l'aspetto a settembre. Se annuncio a marzo. Sì, sì. Ormai, cioè, gli slot sono quelli lì. Non credo che possano fare molto diversamente. Forse un'uscita in estate, non lo so. Non è mai successo, però la console in estate è proprio complicato, secondo me. Quindi è difficilissimo. Secondo me fai le tre, la fai superpromozione, fai vedere i giochi a settembre, presto, magari esci. Magari fanno una console da spiaggia, tipo che gli esce l'ombrellino. Tu ti aspetti novità della console? Beh, cioè, se tu pensi, loro ogni volta fanno una roba che te non ti aspetti. Cioè la sveglia, che cazzo se lo aspettavano, onestamente. No, no, però... Secondo me non è così improbabile che la console sia una roba... Cioè tutti quanti Switch 2 identico al precedente, che è la cosa che ha senso, e secondo me loro la cosa che ha senso non la fanno. Non la fanno quasi mai la cosa che ha senso. Hai ragione, però hai venduto 150 milioni di pezzi. Secondo me il riferimento principale è DS3DS. Hanno messo in 3D, non è fregato un cazzo, ma intanto 87 milioni di unità le ha impiazzate. Però se loro interessasse fare la roba sensata, cioè che senso hanno ancora i codici amico o il fatto che lo store digitale, dove si stanno spostando tutte le vendite, sia ingestibile sullo Switch. Cioè... Beh, non lo hanno venduto. Cioè è ingestibile come lo sono tutti gli store, però, Don Maso. Cioè quella roba è complicata. Adesso c'è stata questa fantomatica funzionalità online in cui la gente è impazzita e tutti volevano provarla. Magari può essere legata a qualche evoluzione dell'infrastruttura online di quel tipo di cose. Quale fantomatica modalità? Ma Nintendo ha fatto un annuncio dicendo ah, se vi iscrivete vi facciamo provare una funzionalità online, un test molto piccolo. La gente si è lanciata in massa e tipo hanno esaurito i posti. Non si sa, non si sa niente. Non era specificato. Secondo me non è mai una roba importante perché Nintendo che custodisce i suoi segreti figurati se si affida a gente a caso a firmare un NDA che dopo tre secondi sta su internet. Io faccio una previsione. Attenzione. Codice amico sì. Te lo dico già adesso. 100%. È una scelta. Forse sì. Anche secondo me non si staccano da quella cosa lì. Perché c'è un paura dei pedofili. Che poi non ho capito quanti pedofili ci sono su PlayStation 5 e Xbox. Sarà pieno. Sarà assolutamente pieno. Roblox hanno fatto ci sono delle stime che fa spavento di quante robe scuro fuori da Roblox. Marco ne ha parlato sembrava un articolo recentemente quindi ce ne potrà parlare meglio lui. Comunque attenzione la mia previsione è questa la console non c'è non c'è console è un servizio online e loro ti vendono solo il controller e il controller è una roba tipo che sia Che è la roba più avvenidistica del mondo la fa Nintendo sull'online cioè è così? Sì. Manco Microsoft c'ha avuto il coraggio di fare Forse la fanno male Ma mai nella vita Vendono ancora giocattoli loro Stavo cercando la dichiarazione di il presidente Nintendo Furukawa che diceva secondo me in una dichiarazione diceva proprio una console in continuità con la precedente quindi secondo me stavolta non sbrodolano e faranno la console che ci giochi tutta la roba di Switch ma alcuni giochi sono esclusivi a Switch e basta secondo te non c'è nessun gimmick però non è niente Sarà una portatile migliore magari con delle cornici più rifinite magari con sì sì quello sì cioè sarà quello che si definiva Switch Pro in un pacchetto migliore magari con non fanno mai la roba che ha senso pensate al passaggio ma magari anche stavo per dire franco ma ho messo fuso Tommaso magari anche solo infilarci un chip che ha la possibilità di fare l'upscaling per Nintendo e rivoluzione e quindi i giochi effettivamente arrivano magari a essere in 4K con la base e ma così c'è già una Switch 2 c'è già questa roba come un nuovo modello secondo me la questione tecnica non esiste cioè a loro gli piace una roba loro vogliono fare una roba strana che gli altri non fanno perché se no però era Tommaso quella era anche la risposta non possiamo fare la tecnologia proviamo a fare una roba che tiene botta dopo Wii U secondo me l'hanno un po' persa quella voglia di fare completamente la cosa strana Switch non è così strano è ottimizziamo i nostri studi quello che facevamo con le due console la trasformiamo in una per me non è strana è un'ottimizzazione di quello che facevano prima Switch nel momento in cui tecnologicamente ci sono riusciti hanno fatto in modo di non fare due console con due linee app che era quello che facevano e questo gli ha permesso di avere una Switch molto forte di software loro questo Natale per Nintendo è forte in una console che sta morendo e loro sono usciti con Mario e Luigi Mario Party figo e Zelda che è un signor gioco con Pokémon e Metroid in arrivo ah attenzione hai letto i leak che è su nuovo Pokémon veramente esce un altro Pokémon ma no Pokémon Pokémon Z l'hanno annunciato mesi fa che esce nel 2025 all'inizio non segui Pokémon è come Dragon Ball ma tipo in quest'estate l'hanno annunciato no no ah ok ok non lo sapevo minchia su Switch quindi e Metroid che è un gioco Switch quindi comunque in tutto il percorso di Switch sono usciti con tanti giochi io credo che questa cosa loro l'avessero voluta fare anche prima ma non potevano tecnologicamente non so io sono convinto che la cosa più sensata comunque loro non la faranno non la faranno ci sta ci sta per carità faranno una roba con delle stronzate strane che ha attacchi Joy-Con alla sveglia ed è perfetto che può portartela in giro magari la retrocompatibilità c'è però ci sarà qualcosa di strano intanto la chat si divide Le Pere dice attenti non c'è Iwada questo al comando è un colletto bianco vuole fare soldi continuità e soldi facili tra l'altro Miyamoto diceva che i parchi non l'avrebbero mai fatti una volta il museo anzi più che il parco dice questa è una roba proprio che una volta Iwada sarebbe morto dentro Davide dice invece loro divendono il giocattolo nuovo che fa cose che fa solo lui non solo potenza quindi un po' al pubblico ci crede non so mi stupirei molto se facessero uno Steam Deck praticamente cioè alla fine perché poi vanno a competere con la Steam Deck ma quale Steam Deck sotto Steam Deck ma quanto cazzo mai ci arrivano a Steam Deck beh vabbè dai il primo modello almeno si dai ma che cazzo dici? dici che non è potente come Steam Deck no ma Steam Deck è una bomba infatti la batteria dura due ore quando ci giochi alla roba forte loro faranno una batteria che dura 8 e non sarà mai quella roba là non è dura 8 neanche quella di Switch secondo me è comparabile allo Steam Deck lo devono fare perché sennò cioè che giochi fanno girare niente quelli di adesso che ne ne frega il cazzo per altri 8 anni cioè è dura io lo sai devo essere onesto io sono uno che gli piace la grafica con Switch ho patito a volte quando scattava un po' l'ultimo Zelda nella parte aperta qualche scattino di troppo lo vedi Baionetta girava una merda ma mediamente io tutta sta sofferenza di grafica di madonna quanto sono brutti i giochi Nintendo perché questa console non ce l'ho avuto avrei preferito giocarli su PC sì però tutto sommato anche Stiga non mi aspetto io le ultime cose facevo fatica guarda tipo anche i Baionetta quelle robe lì cioè avevano proprio dei problemi Baionetta girava malissimo Baionetta era proprio sbagliato come era pensato secondo me però guardate che alla fine hanno venduto 26 milioni di Switch OLED che di fatto ha una tecnologia diversa dello schermo è uno schermo un pochino più grande ed è bianca aggiungi quella roba lì con qualcosa di tecnico in più che c'è per forza anche solo perché aggiornano il chip e ci sono i giochi esclusivi a un certo punto e la gente ma io per primo devo travasare di là se voglio giocarci a questi benedetti giochi anche se è una Switch e mezzo allora leggo qua Shuntaro Furugawa il prossimo modello di Switch lo definisce sì per ora lo definiscono il successore di Switch per non dar modo a gente di speculare troppo addirittura non lo so io mi aspetto ogni Nintendo star notizia la gente si aspetta o Silksong o la nuova Switch che voglio dire domani domani da Xbox Silksong lo scopriremo quando sarà uscito il podcast esclusiva Game Pass neanche Xbox è esclusiva Game Pass in pass si sa ah esclusiva però si sa che è già Game Pass il song annunciato non sono sicuro sai 100% ho sbagliato refantazio state calmi oh vaffanculo senti l'ho detto 100% ma Citizen Sleeper 2 di cui ce la demo adesso su Steam ma non voglio giocarmela perché me la voglio giocare intero si sa quando esce non mi ricordo Tommaso non puoi però così diluire la conversazione come cazzo mi è un ottimo gioco che avevo voglia di giocare non lo so perché non essendoci una traduzione ed è una roba tutto di testo non ho giocato il primo anche se 2025 ma non c'è una data precisa anche un inglese abbastanza tosto eh non so 2025 ma niente data più precisa Tommaso va bene allora sono sono deluso me ne vado no addirittura ci sono sembra eccessivo però sei un uomo libero in un paese libero per ora sì anche il prezzo secondo me è importante proprio per questa roba di andare comunque a prendere anche i bambini hanno fatto alla fine hanno fatto Switch Lite cioè il minimo di gimmick di Switch è stato anche abbandonato con Switch Lite cioè mi sembra una nuova Nintendo quella di successo hanno capito che con lo store spaccano questi hanno fatti i soldi veri vendendo gli indie nel loro store la monnezza hanno uno store che tu dici che è confuso ma è un Apple Store a suo momento cioè venderanno una quantità di roba su cui prendono percentuali che non avrà senso io ogni volta che lo apro trovo dei giochi che veramente mi sembrano quelli cioè neanche dal cestone sono proprio dei giochi che perché sei vecchio farebbero schifo farebbero schifo su cellulare su smartphone sì sì ma è quella roba là è assolutamente quella roba là però faccio notare che in mezz'ora di puntata non abbiamo ancora cagato un punto della scaletta no no abbiamo messo l'armo che era più importante però scusami sveglio è più bello però sono d'accordo va bene allora parlavamo di Jason Schreier giornalista famoso credo scriva per Bloomberg forse anche per qualcos'altro che grazie grazie con del grazie al cazzismo ci dice che PS5 Pro ha provato che la grafica nei videogiochi non può più migliorare fondamentalmente siamo già a un livello tale che per mostrare PS5 Pro ti fanno vedere dei giochi che giravano bene su PS4 allora diciamo che non scopre l'acqua calda di PS5 Pro non è che non abbiamo parlato perché c'è stato il periodo perché due giorni prima Tommaso dice vabbè fa niente non c'è un cazzo di cui parlare rimandiamo un attimo è successo il mondo infatti tre giorni di tutto è successo vabbè quindi niente non so di cosa vogliamo commentare di PS5 però c'è qualcosa quella è la grande vittoria di Vito Iuvara vogliamo dirlo bella l'edizione quella del 25 molto bella molto bella ma diceva più la normale che la prova però bella l'operazione è molto figa è stata la grande vittoria di Vito Iuvara PS5 Pro perché c'è una clip di marzo perché Switch caga nel cazzo ogni volta che io ho sbagliato Switch e PS5 Pro non se lo ricordano ma com'è diciamolo c'è una clip in cui Vito Iuvara dice io la venderei a 800 euro capendo c'era il pubblico Sony in ascolto oh ci sta sto Romano che ha detto 800 fammo 800 ci sta secondo me cioè il senso è dove l'hanno venuta cioè non lo sappiamo in realtà perché Sony potrebbe benissimo essersi messo a tavolina aver detto 800 euro sono poche vendiamone 100 milioni la mia impressione è che loro sapevano che non c'era questa grandissima richiesta del pubblico grosso che fosse la richiesta degli entusiasti se li prendi con la vasellina da dietro ragazzi a me non sembra una roba strana posso rispondere a una domanda che abbiamo dalla chat c'è qualcuno che mi chiede quante finestre ci sono dietro di me allora te le faccio vedere meglio vediamo attenzione abbiamo porta doppia doppie finestre con gli antiri romani proprio finestrella finestra più grande e finestra sopra quattro con due strati io ne ho un'altra Tommaso perché cioè perché questa configurazione non so rispondere non so rispondere perché evidentemente fare una finestra unica gigantesca poi dovevi tirarla con una forza del culo non era possibile probabilmente si usano delle macchinette a privati per quello credo che a seconda di quanto a seconda di quanto freddo fa apri una o due vedi Vito evidentemente in Finlandia c'è gente che paga a cazzo gli infissi lì c'è un mercato secondo me inesplorato ma la doppia finestra poi la roba insensata a meno che non siano allora la doppia finestra è il top siete stupidi voi in Italia a non usarla ma abbiamo smesso di usarle non ha nessun senso in Italia non ci sono più le finestre le doppie finestre non ci sono più quando sono usciti i vetri con la camera si è mandato ascolta le doppie finestre tengono intanto l'isolazione termica perfetta e due il rumore c'è fuori può esplodere una bomba nucleare io non sento niente è una cosa un po' negativa anche c'è un problema quando ci abbiamo gli zinghiri grazie a Dio e gli zinghiri necessitano di grado persiana che è quello che io vendo e quindi dove tu c'è la finestra io ce devo metter ferro e tu ma vuoi vogliere ferro ma vaffanculo però se la tua casa la prende fuoco tu puoi hai le sbarre d'acciaio e non puoi uscire e c'è la chiave dentro che cazzo 4 finestre da cui posso lanciare sì ma ce n'è un'altra che non ti ricordi pigli una testata non lo faccio ma così Rolini si intende la doppia finestra due finestre cioè una che apre verso dentro tu vai fuori e ne apri una verso fuori si usava anche da noi un sacco una volta prima di hai mai pensato di fare degli scherzi a tua moglie vieni qui tesoro tu eri tra le due finestre e lei arrivava e prendeva un frontale no perché lo spazio tra le due finestre è molto stretto quindi dovresti diventare un po' tipo va bene senti riconcentriamoci ragazzi PlayStation 5 Pro quindi molto vabbè non lo so che cosa ne pensate del prezzo di PlayStation 5 Pro voi da me lo sanno per me è un prezzo molto alto però secondo me dobbiamo semplicemente a livelli di tutte le battute che si possono fare non pensare che sia PlayStation 6 cioè PlayStation 4 Pro è stata venduta a un quarto cioè scusate alla fine del ciclo PlayStation 4 Pro ha rappresentato circa un quarto 20-25% delle vendite totali presumo che quello sia grosso modo il target di PS5 Pro magari fai anche il 15% solo che venduta a quel prezzo come dicevi te gli enthusiast li coglie e sono una minoranza assolutamente io veramente non riesco a capire questa cosa di prezzo perché è tutta una questione di precezione cioè l'ultimo modello di iPhone parte da 1200 non so quanti euro perché dovrebbe essere un problema il top delle console che costa 800 io sono d'accordo con te perché non è mai non c'è mai stata secondo me però non è un paragone perfetto perché l'iPhone sarebbe il PC top di gamma perché sopra l'iPhone non c'è qualcos'altro semplificando il discorso che fa cose ancora meglio invece la console per quanto potente sia comunque va sotto a certe facce di PC ma se facevamo un confronto con il top di gamma smartphone è quello sopra non c'è altro che fa cose meglio nel caso di PS5 Pro che è un PC da 1700 euro che ne so secondo me adesso arriva uno che ti dice c'è il Google Pixel svrum cra che è meglio dell'iPhone quindi non lo so se è proprio quello il punto il punto è che stavo semplificando il discorso per carità il punto è che se vuoi una console e non vuoi un PC e ci sono ottimi motivi per fare questa scelta sai dove è nato secondo me la super impazzimento perché PS4 Pro quando è uscita aveva un prezzo che era nettamente da un'altra parte non era sull'entusiasta era sul sostituiamo PS4 con una console la versione nuova allo stesso prezzo è uscita allo stesso prezzo di PS4 che si abbassò di prezzo in un altro mondo e con altre esigenze di cambiare la console mentre PS5 Pro è veramente per chi dice voglio proprio avere tutto perché oggi ci gira tutto bene io devo dire la verità avevo PS4 non ho mai sentito la necessità di PS4 Pro so che qualcuno a qualcuno decollava ma la mia non l'ha mai fatta quella cosa mia era pure se passavi al televisore 4k magari faceva più fatica c'era una roba commerciale secondo me che la vendeva un po' meglio mentre adesso quasi nessuno voleva questo gioco girare a merda voglio la pro quello che hanno sbagliato è che dovevano uscire con Death Stranding 2 fargli vedere che su PS5 Pro c'ha sta roba extra invece il fatto che appunto i giochi che ha mostrato metà ci sono su PS4 è proprio stupido ma non so neanche perché perché insomma qualcosa su PS5 esclusivo di PS5 ce l'avevano forse anche quindi boh quella cosa lì Gogul e Fader stanno dicendo eh ma una merda vediamola ragazzi cerchiamo di capire come funziona la scalino nei giochi se tu non avessi la PS5 e dovessi comprarti un modello andresti su quella normale o la Pro io la normale per quanto uso io una PS5 io la uso per due giochi a ciclo cioè ormai per me è mediamente una console cioè dovrei non comprarle se veramente si stringe il tempo in cui le esclusive le portano su PC per me diventa una console insignificante io gioco su PC cioè per me no ci ho quelle esclusive quindi no ma non c'avevo proprio la voglia prima onestamente mi sono anche pentito di aver comprato PS4 Pro all'epoca mi sono pentito di aver comprato anche la 3090 sinceramente perché alla fine oggi c'è qualcosa nella tua vita c'è qualcosa nella tua vita di cui non sei pentito ma un sacco di cose tipo il volante che arriverà adesso che costa 600 per me non è un problema ecco ecco giustifica il volante da 600 mi dà felicità mi dà felicità Tommaso perché ci facciamo le cose nella vita perché hai fatto un figlio che magari ti sgozzerà nel sonno quando ci avrà 18 anni perché ti dà felicità ti fa stare bene quello che facciamo giornalmente nella vita è cercare di essere felici la ricerca della felicità va bene la ricerca della felicità poi se il figlio fosse costato 800 euro non sono sicuro che l'avrebbe fatto l'avrei fatto al lancio mi sarà costato di pannolini il primo anno dice quanto quanto mi è costato mette la merda in un contenitore eh 8 piotte eh pensaci ma sai cos'è sai cos'è il game changer quando hai un figlio piccolo è comprarsi non pulirlo il tippito mi pare che si chiama tippitap non mi ricordo quello che li metti dentro che è un bidone dove tu metti dentro i pannolini poi giri e lui li sigilla che così non puoi sentire l'odore per tutta la casa bello eh cioè lo raccomando a tutti non la conoscevo ho imparato che c'era un contenitore con friends mi ricordo c'era una puntata in cui a race le spiegavano il contenitore dove tu lo metti dentro e poi giri sta manovra e lui li sigilla tipo ma sigilla il pannolino o lo incarta con l'amianto no no lo sigilla è tipo è tipo immaginati un come si chiama tippi aspetta non mi ricordo tippi adesso lo trovo ma è una roba solo nordica o anche in Italia facciamo questo lavoro uno vende Amazon l'ho comprato anche in Italia cerco tippi pannolini dai sì ricarica mangia pannolini tom perché c'è una ricarica tom e tippi esatto quello là sì sì perché c'è una ricarica però vuol dire che qualcosa giornalista e quindi di merda nei bazzi se vado a casa sua in frigo trovo cose è meglio non mangiarle perché non si sa allora questo segmento sarà bellissimo perché ci ascolta però immaginatevelo c'è questo cerchio di plastica no all'interno del quale sono contenute delle borse tipo delle borse ah lo reimballa esatto lo reimballa esatto tu lo metti così fai un nodo qua poi sotto questo Tommy che ti ha una roba dove si attacca tu praticamente metti il pannolino dentro qua quando è attaccato a tutto il dispositivo c'è una una manovella giri e lui te lo imballa e questo serve perché mantiene cioè evita che l'odore vada in giro per tutta la casa perché quando i bambini sono piccoli poi te ne fa tanta è arrivato Bottura e si sta lamentando del contenuto di Rickas di cui lui secondo me è felice perché stiamo parlando di merda stiamo parlando di cacca esatto dovresti venire anche tu Marco mi ha parlato di cacca va bene va bene sì è un momento brutto questo di parliamo di figli e pannolini infatti era nato dall'insutto però era partito tutto Marco da playstation 5 pro è comunque meglio di fare un figlio voglio che tu apprezzi questa cosa siamo arrivati a parlare di come imballare la merda e la risposta di Tommaso è stato però io incarto la merda quindi il figlio è meglio di playstation 5 pro credo sia stato questo più o meno sì sì il percorso logico stiamo parlando di costi questo qua tipo uno di questi tipo 10 euro 15 e 90 qua c'è scritto Tommaso te ne danno quanti 4 6 ma è una per pannolino no 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 ce ne stavano ah ce ne stavano i sacchetti tra l'altro quanto cagano 4-5 volte al giorno ne fai eh quando sono piccoli sì adesso una volta scandalo però è così comodo che è stato usato anche Tommaso effettivamente è prato la sua vita non è più la stessa esatto senti vogliamo andare avanti dai che forse abbiamo cominciato scusate allora l'astrobot possa dimostrare che nel mercato ci sia ancora voglia di questi prodotti mettiamoci anche Warhammer cioè due giochi concettualmente di qualche anno fa cioè l'idea molto superata perché oggi deve essere grande lungo invece due single player finiti come ore e tutto che hanno avuto un buon riscontro in proporzione meglio Warhammer che è stato invece un successo clamoroso mi ha venduto mi sembra 5 milioni di copie per loro sono un botto secondo voi sono la dimostrazione che esiste un mercato anche per questi prodotti o sono una casualità allora intanto bisognerebbe capire perché Warhammer mi pare di aver capito che abbia venduto abbastanza bene ma l'astrobot non si sa niente e se avesse venduto benissimo tra l'abbro detto secondo me si sa che ha venduto più di Ratchet & Clank che secondo me non è una notizia per forza positiva Ratchet & Clank era all'inizio del lancio di PS5 in digitale io ti direi guardiamo a quanto lo scontano a Black Friday se lo scontano 10-20% probabilmente ha venduto bene se te lo scontano 40% secondo me non ha venduto bene la mia sensazione su Astrobot di questi pezzi di fango qua in chat è terribile ho fatto un sondaggio prima che uscisse e la maggior parte di loro lo consideravano un prodotto da non vendere a 60 euro un prodotto minore piccolo che non valeva prima di sapere poi che era un capolavoro della madonna è il genere il platform ormai 60 euro c'è Mario sì ma è l'unico penso che può permettersi quella roba lì però siamo d'accordo che è una minchiata perché Star Wars nessuno si fa lo scandalo Star Wars è un gioco che non ha un testicolo di Astrobot veramente ma non è la qualità del gioco è il genere che viene percepito diversamente sì ma dobbiamo usciperare anche questa cosa c'è il problema che il genere venga percepito come quanto devo spendere i soldi è una cazzata cioè tu dovresti pensare a divertirti non al genere no sto vedendo che Marco sta facendo il commento ma perché non viene a parlare comunque diceva Aaron Troia dice Astrobot ha fatto bene in UK aveva venduto fino ad oggi meglio di ogni altro platform tranne Mario ok ma quali sono gli altri per riferimento ha fatto tipo un 40 50% meglio di Sonic Frontiers e anche di Crash Bandicoot 4 che sono comunque giochi multipiattaforma poi vabbè non sono i Super Mario ovviamente però ha fatto bene per essere un tipo di genere però se Crash Bandicoot fosse andato bene Microsoft lo molla vaffanculo pigliatevi pure l'IP non ce ne faccio niente cioè sarà una roba che venderà 2 milioni di copie ma infatti Sony avrà speso 100 milioni in proporzione è andata alla Champions col pubazzo gigante in quella sfera lì di un gioco che avrà fatto bene magari recupera i soldi anzi secondo me va pure in profitto che Sony giustamente deve avere di più in catalogo perché va a prendere una fetta di pubblico che Nintendo sta dominando quindi se anche solo hai tolto un utente a Nintendo per un mese direi che Astro bot ha colto nel segno ovviamente Sony non dice niente sulle vendite perché il riferimento sono le vendite di Spider-Man 2 che chiaramente è proprio un'alta classe di produzione di portata Astro Bot se anche ha fatto un milione in 24 ore non è qualcosa ma l'importante è che ci abbia fatto soldi sono d'accordo con te è anche un team più piccolo che ci ha speso meno e io sono convinto che a Sony serva anche questo tipo di prodotti perché noi un po' ci siamo e io mi gioco più volentieri quello Astro Bot se vogliamo parlare anche un po' di gioco secondo me ha una roba che si è dimenticata cioè toglie qualsiasi extra superfluo e ti lascia veramente la bellezza di giocare solo quello che devi giocare poi si può discutere Eron Troia dice una cosa che è interessante cioè comunque un gioco fatto da 40 persone non è il Concorde allora sta cosa qui probabilmente è vera perché poi dipende da quanto ho speso per farlo perché c'è una questione di margini perché Sony mi ricordo dei risultati finanziari di qualche mese fa cioè spendeva tantissimo e guadagnava appena appena sopra però Astro Bot a livello di promozione c'è una roba che non ha avuto Concorde mi raccontava proprio Marco dal Giappone che era dappertutto Astro Bot perché forse in Giappone si aspettavano di vendere evidentemente perché il concorso appena già chi non sarebbe secondo me sì lo davano già per morto però Astro Bot la spesa marketing di Sony addirittura spaventa Microsoft le dichiarazioni di qualcuno dentro Microsoft non mi ricordo di più di chi recentemente sono di mortacci loro quanto spendono questi dei marketing non ce la possiamo fare cioè capite questi sono andati veramente alla Champions c'era il pupazzo poi vai in Giappone spari i treni le robe quella roba ti costa magari ha speso più di quello che dello sviluppo io però aggiungerei aggiungerei un altro tassello anche questo discorso che stiamo facendo di Astro Bot che deve insegnare al mercato cioè pensare che un solo gioco di cui non conosciamo i dati che speriamo magari almeno una fetta di pubblico in cui io rientro spero abbia fatto bene per vederne ancora non cambia le cose cioè non mi aspetto che adesso Astro Bot è andato bene allora tutti corriamo di nuovo a fare i videogiochi a piattaforme 3D dovremmo anche evitare ogni volta di appesantire il discorso pensando Astro Bot ha venduto 15 milioni di copie se no è una merda se arriva un gioco fa le sue cose fa i suoi soldi e Sony è contenta si spera a posto senza pensare che mangi un segnale vendere e fare utile di un po' di titoli unito al fatto che ormai il gas 9 volte su 10 è una trambata contro un muro che ti fa malissimo la più grossa figuraccia a livello mediatico della storia di Sony videogiochi secondo me è stata con Cor non ricordo se è scappato dopo due settimane guarda che è una roba no no certo le due cose insieme possiamo farci un discorso e dire oh ma forse sto mercato era andato in una direzione che non è sostenibile posso parlare anche a me nel mio podcast no ti aggiungo solo una cosa velocissima e poi ti lascio parlare se avessimo fatto se Astrobot non fosse uscito a settembre fosse uscito il 4 marzo dopo Eldivers 2 tu lo facevi sto discorso qua perché Concord è andato male punto Eldivers 2 è andato molto bene se usciva subito dopo un gioco come Astrobot non c'era quella coincidenza incredibile di un gas è andato malissimo come mai giustamente sottolineare nella storia di Sony posso rispondere Tommaso che sennò si fa esplodere adesso tu non so se lo conosci bene e poi ti rispondi allora secondo me ci sono due due cose a considerare uno che c'è chiaramente una generazione più o meno della mia età che fondamentalmente non c'ha tempo per la maggior parte dei giochi moderni cioè non c'è proprio più tempo e quindi quando ti propongono un gioco che dura dieci ore bello effettivamente è attrattiva perché sei in una situazione di vita dove probabilmente hai più soldi che tempo e quindi tanto vale investirli in qualcosa che riesce a giocare dall'inizio alla fine senza rotture di palle la seconda cosa al di là del fatto che il mercato è sovraffollato per i gas eccetera secondo me il mercato si è spostato in quella direzione a un certo punto anche perché c'era il fenomeno dell'usato del gamestop di quelle cose lì quella roba lì progressivamente si sta riducendo cioè il motivo per cui sono usciti i giochi dove tu devi star lì e tornare tutto il tempo è perché cosa succedeva la gente comprava i giochi ci giocava tre giorni tornava dal negozio se lo rivendeva e agli sviluppatori non arrivava niente andando sempre più in un mondo in una direzione dove la gente si compra in digitale e i gamestop gli equivalenti comunque si stanno riducendo sempre di più tu sta situazione un po' la stai ribaltando non hai più bisogno del gioco da mille ore non hai più bisogno del gioco che ha il season pass con 30 cose perfino Ubisoft credo stia arrivando alla realizzazione che forse devono dare una cambiata a tutta sta sta menata qua infatti l'annullamento del season pass di shadows è abbastanza interessante come fenomeno poi vabbè Ubisoft ha anche altre problematiche quindi magari non è neanche collegato a quello però secondo me il mercato ha avuto un minimo di cambiamento collegato strutturale dici tu al cambiamento delle abitudini di acquisto dei clienti secondo me vale per un sacco di prodotti non proprio per tutti perché su Sysquad il Concorde invece erano il tentativo di far sbocciare un Fortnite cioè la piattaforma di gioco che ti genera quella quantità di introiti da qui al momento sono fuori tutti i grandi del settore cioè quelli che fanno le console che dominano il mercato e che sono stati quelli di cui parliamo noi quando parliamo di videogiochi cioè Sony Microsoft Nintendo non hanno un gioco di quelli cioè Microsoft oggi ce l'ha con Call of Duty ovviamente si è comprato però il resto c'è Rockstar che fa GTA c'è Fortnite c'è quello che fa PUBG cioè non ci sono loro quindi secondo me una parte era voglio quella roba là che ti costa ma fai una quantità di soldi senza senso non significare Minecraft e Sea of Tips comunque Sea of Tips non credo siano le cifre di Minecraft no no ma ci mancherebbe no no però vanno certo loro hanno Call of Duty e Minecraft secondo me bastano ecco gli serve un terzo è chiaro che quello là Sony farebbe molto piacere averlo io credo che a loro manchi un po' quella macchina da soldi infiniti anche perché sono stati molto bravi a vendere i loro prodotti secondo me a volte anche non proprio per meriti del tutto loro e quella cosa però può cambiare cioè arriva il momento che sbagli un The Last of Us sbagli un God of War e fai meno di 20 milioni che è il massimo che fai cioè per quanto spendi dietro non fai soldi abbiamo visto da questo punto di vista io ho trovato molto interessante un'intervista che ha rilasciato di recente una dirigente o un dirigente non mi ricordo di Paradox brevemente Paradox è un editore che ultimamente non è azzeccata mezza ha cancellato Life is You Life is You o qualcosa del genere che doveva essere l'anti The Sims Cities Skylines 2 è uscito malamente eccetera eccetera perché sto citando questa intervista perché il dirigente ha parlato del cerchio della competenza cioè per dire noi sappiamo fare queste cose inutile che proviamo a fare le altre perché non riusciamo ad arrivare dove arrivano gli altri ci mettiamo troppo tempo dobbiamo imparare un sacco di cose dobbiamo fare gli strategici dobbiamo fare le nostre cose e il discorso è anche che Sony Microsoft non voglio fare tutto tutto probabilmente qualche altro calcio in culo arriva Sony fa benissimo quello God of War The Last of Us eccetera eccetera probabilmente questo tentativo che vale anche per altri grandi editori Electronic Arts Ubisoft che è quella che sta patendo di più eccetera di voler a tutti i costi essere in tutti i mercati e finisce che se poi ti arriva la volta che 3 su 5 vanno male quei 3 poi sono cazzi finanziari secondo me però non è proprio voler essere su tutti i mercati è voler mettere una pietra in quello che fa i soldi veri oggi Electronic Arts ce l'ha per esempio c'ha il suo FIFA che gli ha permesso di prendere pizza in faccia ovunque con tutto il resto a Ubisoft non c'ha un FIFA oggi c'ha Rainbow Six che non è mai FIFA quella roba ma vi rendiamo conto quanti soldi può fare cioè quello che è diventato oggi Fortnite ho capito però per provare a fare soldi hanno azzeccato Prince of Persia che è un gioco medio e Assassin's Creed Mirage che è un po' meno degli altri Assassin's Creed cioè quando Ubisoft non fa le cose assurde possono anche riuscirle per me però a livello di vendita entrambi insignificati ho capito ma evidentemente forse Ubisoft deve calare non può essere un editore come Electronic Arts e che devi fare però la gente ce l'ha cioè devi fare i superlicenziamenti di massa in Europa tu loro sai come ne esce Ubisoft allora ho visto che domani c'è lo sciopero di tre giorni perché la gente non vuole tornare in ufficio perché ovviamente sono cinque anni che lavorano in remoto c'è gente che si è comprata la casa per lavorare in quel modo lì se ti dicono torna in ufficio praticamente ti sta licenziando perché magari c'è gente che fisicamente non può andare poi c'è anche gente che dice no io in ufficio non ci sono perché voglio lavorare da casa e lì c'è magari a casa fai meno non lo so io sono per il lavoro remoto però è abbastanza evidente che c'è della gente che a casa non riesce a gestirsi Ubisoft Nash è così secondo me devono licenziare metà delle persone che ci sono gli studi ma in Europa non lo fai in Europa non fai quello che fai in America io licenzio tutti le licenziano in Canada le licenziano dove tu ce l'hai in Europa le sei in Europa Ubisoft infatti adesso c'è lo sciopero guarda che in Europa puoi licenziare basta dimostrare di essere in difficoltà fallito devi zompare forse in Italia lascia perdere guarda Tommaso io con 15 dipendenti se voglio cacciare uno non hai proprio idea di che cazzo devi avere su bilancio per poterlo dimostrare che non è quello che c'hanno loro oggi ma guarda che per le aziende grosse le regole sono diverse rispetto a c'è un problema se lo avrebbero già fatto avrebbero già sbaraccato comunque al di là di come possono farlo secondo me succederà questa cosa qua se non vengono acquisiti da qualcun altro che poi lo faranno loro ma per me succede così licenziano metà delle persone splitano i team in team più piccoli e fanno un reboot di tu cioè Assassin's Creed non può più continuare secondo me non ha più non ha più la forza cioè è sempre lo stesso gioco è inutile che ce la raccontiamo oh ma Valhalla è quello che gli fa il record per la domanda ma di che cazzo stiamo parlando per me non possono continuare con Valhalla è il loro record di vendite della serie che giochi lanciati in un periodo particolare Valhalla cos'è 2020 o addirittura 2021 non mi ricordo adesso è quel periodo lì Animal Crossing che ti esce a marzo e fai il record della madonna gli conviene gli conviene far uscire 30 giochi come Prince of Persia quello lì piuttosto che un Assassin's Creed scuola perché di quei 30 3 secondo me non c'è il riscontro sulle vendite però perché quel Prince of Persia l'avrà venduto 500.000 copie ma tu devi diminuire ovviamente le spese adesso c'hanno dei team però non è detto che li vendi ma ne sbagli e hanno fatto Immortal Phoenix più piccolino diverso non si è inculato nessuno perché era la 9P quello che stanno facendo loro è l'opposto loro adesso faranno Assassin's Creed in macchina piuttosto che Assassin's Creed sui treni Assassin's Creed in aeroplano Assassin's Creed che lo succhia al cavallo eccetera credo che loro adesso hanno un marchio forte e lo spremeranno fino a distruggerlo piuttosto che fare Rayman per me l'hanno già distrutto infatti già da Shadow secondo me vedrai un drop delle vendite poi Shadow ormai in qualche modo sono riusciti a danneggiarselo da soli prima dell'uscita perché ormai c'è la fiducia su quel titolo lì mi pare abbastanza traballante chiaro che ci sono dei problemi vediamo vediamo che la mancanza di fiducia credo sia più di pubblico adesso di critica di pubblico di critica dici? ma sì il pubblico ci stava dietro poi che faccia i numeri di Valalla probabilmente no e il grosso problema loro è che siccome Valalla ha venduto 100 questo ne è 100 numero a caso questo deve vendere 100 per 2 che non farà mai perché anche per i motivi per cui dice Massimiliano ma secondo me possono fare soldi ancora con Assassin's Creed non lo so io mi pare una serie che ha veramente così poco da dire ormai che boh poi è vero che ne hanno perché Sushima aveva qualcosa da dire Tower Legacy aveva qualcosa da dire Rebert aveva qualcosa da dire non lo so a volte dipende proprio dall'attenzione della gente e dalla voglia non da quanto abbiano da dire la qualità è relativamente importante in questo mercato Tower Legacy è peggio di Star Wars ok però per Ubisoft questa strategia non sta funzionando a caso si sta implodendo sì sì non ha funzionato il tentativo di fare anche Millegas di fare l'Assassin Creed di fare la nuova EP non sta funzionando un cazzo hanno i dipendenti in rivolta cioè quando sei in quella situazione lì i dipendenti rivolte in un mercato in difficoltà avranno dappertutto e se ne è parlato uguale abbiamo un anno che sentiamo parlare di licenziamenti casini e che loro non possono possono farli più a fatica ma se vogliamo parlare di industria di scelte indovinate chi è che l'ha indovinato Microsoft che fa Starfield che passa sotto tono quanto avranno speso per Starfield Sony che fa domina il mercato da 30 anni e non fa una tira che prova a fare i gas e fa Concord che esce due settimane cioè tolta Nintendo chi è che ci sta capendo qualche cazzo di sto mercato e Nintendo vediamo se ci capisce perché Nintendo è muoce sta capì fra tre secondi fa il nuovo Wii U e non ci capisce il cazzo poi Madonna è l'online i codici amico sono un problema poi Puff Smith sono geni il codici amico è fantastico la nostra lettura secondo me è molto troppo semplice tendenzialmente non ci sta capendo un cazzo nessuno Microsoft ha speso 80 miliardi e non ha indovinato un gioco che uno la lettura facciamola Microsoft ha fatto faccio le esclusive faccio il K-Pass poi non faccio le esclusive poi faccio il K-Pass e faccio quello poi lo giro di là Indiana Jones è esclusiva no ma portiamo sul PlayStation 5 Sony faccio i gas no ma non faccio i gas faccio Concord lo tiro fuori faccio il Davis 2 metto il PSF mi sembrano navigare tutti un po' a vista ecco va bene te l'appoggio te l'appoggio credo che il problema banalmente sia che i giochi sono diventati troppo grossi sono diventati troppo grossi sì ma è chiaramente quello il grosso problema il punto però è sono il mercato li vuole più piccoli cioè siamo oppure lo percepisce come un prodotto minore quindi lo vuole pagare un sacco meno chi cazzo li deve giocare a sti giochi giganteschi che i giovani non comprano le console e i vecchi non hanno tempo cioè chi cazzo li deve giocare a sti giochi secondo me noi però abbiamo una percezione di questa bolla nostra e io la gente che vuole giocare i giochi lunghi li conosco in questa chat ci sono diverse persone che vogliono giocare i giochi lunghi ma quanti anni e che astrobot non è abbastanza gioco perché dura 20 ore quindi lo devo pagare 20 euro se sony fa astrobot a 20 euro prende la stessa trambata che prende oggi facendo gosso sushima 70 questo è la roba che non funziona top spin esce gioco minore e la gente dice non è abbastanza perché è uscito a 50 mi pare perché per loro se è minore deve costare niente mentre i giochi indie si sono alzati di prezzo cioè oggi l'indie The Empire of the Ant costa 40 Darkest Dungeon 2 costa 43 euro si sono alzati un sacco i prezzi degli penso che avevo preso in early access su su Epic Store mi pare avevo pagato 11 cazzo è uscito 43 ma guarda Hollow Knight se vai a vedere il prezzo di lancio è ridicolo per quanto contenuto c'era dentro ma in quel momento storico l'indie non costava mai più di 15 oggi l'indie meglio costa 30 quello di qualità parte da 40 quindi loro si sono alzati quindi non è perché costa lo sviluppo quindi se vuoi ridimensionarti devi fare giochi più piccoli allo stesso prezzo cavirai questi stanno a cagar cazzo per PlayStation 5 Pro che ne vogliono pipan fame per una console che dice non mi serve e cosa tanto e fatti cazzi tua se non ti serve non te lamentà cioè dov'è il tuo problema la Lamborghini non me lamento del prezzo non la posso comprare salve nel là che come feria buh non trovo così scontato direci li impiccioliamo infatti che devi mangiare a casa un sacco di gente quella è inevitabile Ubisoft si salva o se l'acquista veramente Tencent tra l'altro ho perso soldi anche oggi ho fatto ragazzi non so se l'ho detto qui a Rincast con degli amici siamo detti oh compriamo le azioni Ubisoft quando erano scesi un botto il giorno che le ho comprate sono salite del 30% perché c'era stata la notizia di Tencent ma devi fare grande speculazione è guadagnato il 30% in un giorno giusto? sì secco proprio il primo giorno poi adesso c'è stato un po' di rimbalzo ma neanche terribile quindi grandissimo Vito Yoa ma è l'unica azione che possiedi Vito? sì sì la prima volta ho perso pure un 2% perché mi sono iscritto all'applicazione ho perso 24 ore che non avevo mai comprato niente nella mia vita ti stai scendendo tipo Wolf of Wall Street l'abbiamo fatte per cazze già la Lamborghini è un po' più vicina Vincenzo dai parliamo di sti giochi che è stato giocando perché poi ora è andata siamo alle 21 e 30 ma da lui sono le 22 e 30 è a cazzi suoi però mica ci ho salato io in finale è incredibile sono riuscito ad aggiungere un'ora sono un campione abbiamo ancora mezz'ora di solito facciamo un'ora e mezza sì infatti noi abbiamo da parlare dei giochi vogliamo fare un altro argomento prima dei giochi tu hai altro oltre Astro no parlaci di Astro no ma aspetta se fai i giochi devo mettere la sigla allora devi fare nella sezione giusta quindi devi aspettare certo allora decidi vuoi fare i giochi o no Tommaso sai dove l'ora che altri argomenti ci abbiamo che Metacritic sta uccidendo i videogiochi secondo Goichi Sud ci interessa? eh non lo so l'abbiamo messa in scaletta abbiamo lavorato io e Massimiliano quanto tempo serve per una recensione più tu che io in realtà però quanto tempo serve per una recensione probabilmente la va bene perché era uscita la polemica su Star Wars perché li mandano molto presto i giochi sono grossi quindi fanno questi che fanno le recensioni devono fare queste corse incredibili e quello si lamentava quello di Stavosi o Schreier proprio non mi ricordo è allucinante che uno lavora sette anni e poi la tua recensione deve essere fatta in quattro giorni quindi non capisci un cazzo fondamentalmente ovviamente hai una percezione distorta di un gioco lo devi anche giocare superficialmente sì sì ma è il motivo per cui io già all'epoca a un certo punto mi rifiutai di fare recensioni perché mi stava facendo venire il vomito dei videogiochi non li sopportavo più cazzo ti danno una settimana per giocare un RPG di 100 ore io non c'è onestamente voglio fare anche altre cose nella mia vita poi è la gente che dice ma allora tu non hai finito il gioco fa cazzo neanche se non dormo mai durante questa settimana ho il tempo fisico per finire tra l'altro non è che vogliono quelli che leggono le recensioni non vogliono di difficoltà provando tutti i settaggi grafici e facendo tutte le secondarie se no non hai fatto un cazzo quando guarda gli obiettivi ricordo c'è stato il momento vado a spiare gli obiettivi del recensore per capire cosa ha fatto ovviamente mai pagato dignitosamente ovviamente ma io onestamente ho preso bei soldi sì sì intendo dire che al solito discorso se giochi 80 ore non esiste pagamento se spengo 80 ore a lavorare perché devo raccogliere il materiale per scrivere l'articolo o mi paghi 300 euro o vado a fare hai ragione Massimiliano secondo me è una roba molto ridicola della chiacchiera che si è fatta intorno al crunch del mondo dei videogiochi tutti i siti sono usciti dicendo eh minchia lo schifo il crunch ma voi pagate però una recensione per uno che si è giocato le 70 ore quella roba se mi metto a fare le pulci funziona solo perché andate a prendere quello che fa il freelancer e che ha bisogno di fare la recensione che gli interessa è il gioco però tendenzialmente non è il mondo del lavoro no mamma non ce la fai vado con la sigla Dommaso che vuoi fare? beh vai così Dommaso vuole già andare a casa guarda no ti faccio io il segnale come vuoi fare? non so era NERCOP no playing vero? si non riesce mai a fermarla vuoi non metterla che va in loop? eh devo ricordarmi di mettere l'opzione prima va bene poi tra l'altro c'è stata una grande polemica perché mi sono creato delle nuove sigle Consuno bellissime qualcuno si è aumentato troppo lunghe ah oh cos'è che avete da fare? state ascoltando un podcast di videogiochi non è che ma poi da quando è che è permessa l'opinione del pubblico a Rincas Dommaso quindi si è proprio a morire si vogliono fare una sigla di 43 minuti me la sucate e pagate pure non è permessa la mia qua dentro figuratevi voi quasi 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 le tolgo le tolgo solo per chi si iscrive a supportare il podcast gli altri si devono ascoltare va bene quindi preparatevi perché c'è la versione senza sigla di merda scritta da Dommaso canticchiate da Tommaso va beh dai parlatemi di Silent Hill 2 gioco da vista no Massimiliano di Astro fallo parlare la prima volta è un gioco sul pezzo ragazzi non lo spregare io devo dire che voi due oggi non siete d'accordo su mezza virgola ed è un po' un po' storica questa cosa Massimiliano oggi la sto soffrendo devo dire Astro ma in realtà tanto abbiamo già detto è tipo il bambino però adesso sto parlando io Tommaso eh no continua veramente a ribellarsi per oggi Tommaso mi sembra che stai perdendo un po' di potere sai come l'arco trafugante la cazziveria dentro la sta sfugando su di noi in questo non mi interessa vai vai dunque di Astro Bot in realtà abbiamo già detto tanto nel senso si è detto è difficile che non conosciate ormai Astro Bot è uscito e se ne ha parlato in maniera straordinaria come di un videogioco molto molto bello paragonabile paragone secondo me molto azzeccato per creatività idee e spirito anche ai Super Mario che appunto vengono legittimamente ritenuti la massima espressione di quel genere lì in realtà io sono la mia opinione sarà praticamente identica a quella che ha espresso meglio di me Vincenzo nella sua recensione nella sua newsletter perché fondamentalmente Astro Bot è intanto è un gioco molto denso dura una quindicina di ore non ti fa perdere tempo non è vero che ogni livello è diverso dall'altro perché a un certo punto le abilità si possono anche ripetere ma comunque è un gioco gustoso è un gioco che ha anche delle funzioni diciamo di accessibilità cioè nel momento in cui raccogli un oggetto e esci dal livello immediatamente ti salva quella cosa che hai trovato non devi per forza arrivare alla fine del livello eccetera ci sono tanti modi in cui Astro Bot è un gioco che veramente è fatto per rispettare il tuo tempo darti contenuti darti di alta qualità poteva durare il doppio secondo me poteva farlo e non ce ne saremmo lamentati troppo ma non l'ha voluto fare per scelta magari anche economica è un gioco che funziona molto bene e per non dire cose che sicuramente avete già sentito altrove io devo dire che il modo in cui continua a incensare PlayStation dopo un po' l'ho trovato stucchevole cioè mi spiacerebbe se Astro Bot venisse fondamentalmente usato per autospompinarsi ogni volta che esce il videogioco ricordare le celebrità e tutto perché sembra che lo voglia fare a ogni iterazione Astro Bot è chiaramente il gioco del trentennale perché PlayStation è uscito a dicembre 94 quindi sono 30 anni quest'anno dopo un po' era un po' fine a se stesso però è una critica che gli ho sentito fare Massimiliano questo episodio in particolare a me più che uno spompinamento mondo PlayStation è sembrato uno spompinamento mondo dei videogiochi che è passato per PlayStation certamente però è andato a prendere talmente tanta cosa se escludiamo i livelli quelli dedicati che sono spompinamento PlayStation sono quattro però no tutto il resto è festa del mondo dei videogiochi in realtà qui sono anche particolarmente carini devo dire però cosa vuol dire cioè ci sono dei personaggi che non sono Sony no sì sì per esempio Crash Bandicoot di fatto non è più suo ma anche di altre terze parti ci sono vari i vari giochi comunque sono legati a PlayStation ma non di però non è che c'è la parodia di Mario per dire no no sono roba che è passata nel mondo PlayStation quindi tu da appassionato PlayStation quella roba l'hai toccata con mano per farti però non sono giochi Sony adesso hanno annunciato che ci sarà il personaggio di Stellar Blade o di Hell Divers che sono comunque legati a PlayStation non di la skin non credo però non arriviamo a quelli che sono comunque mezzi Sony c'è Resident Evil che col Sony c'ha secca il cazzo c'è una roba che però è importante per PlayStation cioè c'è veramente la festa è sul mondo dei videogiochi mentre in passato era proprio mi spompino da sola cioè quella roba io l'ho patita proprio poco cioè il tema io credo che ritornerà questa roba di prendere i pupazzini i temi dei videogiochi del mondo dei videogiochi detto ciò io l'ho pagato 50 credo perché era preordinato da GameStop però sbaglio o Massimiliano? eh? non ho capito eh no no stavo dicendo a Vito sbaglio o Massimiliano ti ha completamente ignorato Vito eh no è andato avanti aveva già espresso la sua non ha voluto ripetersi perché è uno che conosce i meccanismi dello show Domaso oppure ha fatto finta io stasera non ce l'ho devo andare anche io a dormire scusate no io però voglio sapere una cosa importante Massimiliano in un mondo in cui nessuno che fa il tuo lavoro paga un cazzo di niente perché stanno sempre lì a prendere roba gratis perché ti hai pagato Astrobo cioè Sony l'ha mandato a cane il porci ma ok perché uno ho il feticismo del fisico due lo voleva ma che cazzo vuoi ma l'ho voluto comprare e mi piaceva comprare era un'offesa era per far capire che non compi un cazzo era questo il punto non hai capito Massimiliano no scherzi a parte no l'ho comprato non sapevo se avrei ricevuto il codice o no che roba volevo comprarlo non era una critica era una domanda chiedevo perché se bisogna dire Sony vaffanculo che non hai mandato il gioco a Massimiliano qua mica ci nascondiamo no no ma in realtà credo che anche di averlo ricevuto e di averlo forse passato a qualcun altro però no l'ho giocato hai capito ma capito la gente con i soldi come funzionano che roba ma tu hai speculato in borsa sei ricco adesso ma sono io che ho 50 euro di gioco vabbè parlate voi avete rossi coglioni va andate avanti parliamo di Silent Hill 2 ma che a me è piaciuto io per me mai io lo metto su Mario piano di Mario Wonder non proprio del platform anche se c'è qualcosina di platform però per me il pacchetto va proprio nella direzione di Wonder cioè ti devo stupire dall'inizio alla fine ogni roba che vedi è una sorpresa una roba bella è da vedere molto più che da giocare secondo me che poi è comunque divertente però l'idea secondo me è ti sparo in faccia una roba più bella da vedere ci sono veramente delle robe super fine Silent Hill 2 l'ho finito questa sera la premessa è che a un certo punto del gioco non mi ricordo quante ore ho abbassato il combat a easy perché vivevo malissimo come vivo sempre male in questi giochi la roba di non avere risorse infatti ho finito il gioco e c'avevo 60 medikit la media è stata più o meno con 50 qui c'avevo 60 alla fine ero tranquillo perché sto male io me la vivo male per esempio c'avevo 60 e non li usavo lo stesso cioè veramente da persona con dei problemi abbassare il combattimento combattimentalisi mi ha tolto un po' di questa ansia sono partito bene come entusiasmo perché il gioco graficamente è bellino nello scenario perché poi arriviamo al problema sono arrivato alla fine che ero molto stanco c'è tutta una parte centrale che credo sia quella aggiunta perché poi al 100% non me lo ricordo che è proprio più fiacca con una scelta di game design che è per arrivare all'area nuova lui si butta dentro al vuoto 18 volte lui trova una buca e si butta una buca trova un'altra buca e si butta una buca mi sembra deficiente il protagonista ma non capisci è una metafora come tutto il gioco è una metafora sessuale del buco di culo o vive a Roma c'è nel senso una delle due cose esatto è vero tutto il gioco è una metafora sessuale l'hanno aggiunta e l'hanno fatta veramente in un modo poco elegante questa roba infatti la fase centrale che è quella credo che abbiano inventato è proprio bruttina il problema è che se arrivi alla fine ti chiedi pure ma questa operazione chi dovrebbe far felice perché a livello tecnico alla fine non ti fa felice non è un gioco che puoi dare in mano a uno oggi e ti dice ah che bello perché controlli di merda animazioni facciali che sono una roba importante perché tu guardi filmati in cui primo piano sullo sguardo e quello fa quella roba non è presentabile e animazioni di tutti i personaggi dentro brutti quella roba tecnologicamente ha un impatto lo aveva su di me io che guardavo il resto dicevo madonna che palle sta schifezza in mezzo quindi l'operazione di dire do una pulita tecnologica al progetto al prodotto vecchio non funziona sembra un prodotto vecchio ripulito cioè quasi un filtro pc lo faccio più bello capitemi quello che voglio dire non è un filtro pc perché in realtà è anche molto bello nello scenario ma poi c'hai comunque delle storture che ti arrivano in faccia delle storture che non funzionano che ti fanno percepire che sia un prodotto vecchio anche a livello proprio di meccaniche di gioco il combat che ne fai tanto e sembravo un chirurgo dei venischi cioè ho fatto venti ore a sparare ginocchia di sti cazzo dei mostri io tendenzialmente un po' mannoio la scelta del pallino colorato li mortacci loro per aprire un cassetto e lo devi centrare cosa vuol dire il pallino colorato tu arrivi c'è il segnalino che ti dice che la roba con qualcosa puoi interagire ed è un pallino vuoto tu ti devi avvicinare trovare l'angolo in cui il pallino si colora e allora interagisci che è la roba che ha fatto quei rincoglioniti di Blooper Team che anche avendo un prodotto di base molto forte sono riusciti a dimostrare che non c'hanno le mani secondo me Silent Hill 2 è un prodotto che non è nel complesso orribile perché c'era del materiale di partenza molto forte è stato bello riviere poi io me lo sono ricordato anche a livello narrativo mentre andavo avanti prima che arrivasse alla fine è stato comunque emozionante ma loro hanno dimostrato che le mani non ce le hanno perché sono delle pippe infame il remake non si vede che è di Blooper Team a posto quando si vede che ci ha messo le mani loro è una merda si vede sempre che è una roba che è un remake però che è una roba che dovrebbe un po' passare più inosservato cioè se doveva essere per un giocatore nuovo che non ha giocato Silent Hill 2 secondo me non dovevi percepire quella sensazione di vecchiume perché a quel punto tanto vale giocarmi l'originale in cui non la percepisci così forte la sensazione di vecchiume perché mentalmente stai là ho capito mentre qua tu dici c'è una roba che è vecchia in un mondo che non è vecchio questa roba secondo me fa più schifo di giocarmi la roba retro game io sono uno di quelli che non se lo gioca Wonder Boy non me lo giocavo mai originale se me lo fai bello me lo gioco se però nel Wonder Boy nuovo mi metti una roba schifosa in mezzo tu stai lì con i denti e dici che cazzo state facendo quindi alla fine quello che esce fuori a parte il pacchetto originale che comunque c'era della qualità cioè rompe il culo per quello che vuole raccontare per delle cose che succedono a un sacco di prodotti che escono oggi perché si è po' persa quel tipo di scrittura nel tentativo di accontentare tutti tendenzialmente è un prodotto che è più annacquato dell'originale perché certi sono delle parti in mezzo di merda hanno fatto un errore proprio clamorose qui ancora a Blooper Team il mondo demoniaco fa cagare quando ve lo ricordate nell'originale di Silent Hill cos'era? non l'ho giocato sì io sì scusa? io sì non lo ricordo no no ce l'ho con Massimiliano non l'ho giocato non l'ho giocato gli originali ti perdono perché sei giovane era una versione però veramente super malata fastidiosa che ti faceva stare male con dell'audio molto forte di roba arrugginita qua è una cantina cantina impolverata cioè le prime due volte io dicevo minchia ma è questa sto veramente nella versione demoniaca o è un'altra cosa ma veramente hai giocato il Silent Hill quello in prima persona che era uscito gratuitamente PT no no era uscito recentemente Silent Hill ok perché quello aveva aveva un mondo demoniaca abbastanza interessante questo l'hanno cannato è un po' più sporco è un po' più disordinato ma non era quella roba là se unisci questo fattore al fatto che ci sono delle fasi in mezzo in cui ci rimani tanto dentro perdi anche quella sensazione di non ci voglio stare perché ti ci abitui mentre il ritmo degli originali era pensato bene da questo punto di vista perché tu entravi e uscivi e veramente volevi scappare da là dentro quando ci fai una sessione di otto ore dici vabbè so qua che cazzo me ne frega in un gioco ci dicono dalla regia si chiamava short message a me ne hanno parlato malissimo quindi alla fine ne hanno toccato io non l'ho trovato devo provarlo devo essere onesto l'annacquamento il fatto proprio che poi stai facendo una roba che è vecchia concettualmente cioè ti do un ambiente con mille porte apri la porta chiudi la porta passa nella porta ti apri la porta che funziona finché segui il giro se poco poco ti perdi un oggetto minchia ritrovare la strada il giro diventa una roba io odio però sta roba delle porte è una vaga memoria che c'era anche nell'originale certo che c'era in un altro mondo però Tommaso sono passati 30 anni io non posso fare finta che non siano passati questi 30 anni sai cosa lì hai anche un po' il problema di quanto ti attieni all'originale quanto reinventi se no fai il Final Fantasy 7 remake che io non ho sopportato cioè si ha degli elementi dell'originale ma tutta la roba nuova che ci ha messo fa cagare sono d'accordo mi sembra di capire dalla tua descrizione che per te proprio non bisognava fare il remake di quel gioco lì perché se fai il remake o appunto lo stravolgi tanto vale che lo chiami Silent Hill 2 per me andava bene farlo uguale tecologicamente avanzato ma non dovevi sbagliare il mondo demoniaco che non è secondo me all'altezza e non dovevi fare quella merda di animazioni facciali proprio di animazioni del personaggio perché è una roba brutta da vedere in un gioco che dovresti giocare solo perché è bello da vedere ascolta la colonna sonora era molto bella all'epoca è identica o l'anno io non me lo ricordo così bene l'originale per dirti sia identica però è una roba che si nota di qualità cioè si sente si sente che c'è il manico dietro quando prendi il vecchio secondo me è una roba forte anche oggi la tensione rimane per questo non l'ho punito particolarmente io ho dato 6 cioè è un gioco che comunque riesce a tenerti sta tensione addosso ancora molto forte però è un gioco di 30 anni fa è retro game cioè per me questa è stata un'esperienza da retro game ripulito non da esperienza nuova non mi ha dato niente dal punto di vista nuovo qualcuno dice che i remake di Resident Evil recenti sono di ben altra qualità quello del 2 è nettamente vero sul 4 secondo me siamo già in un'operazione che funziona ma è più simile il 2 invece prendono una roba la stravolgono e si sembra quella roba là sì per me è un altro livello più bravi ok va beh dico due cose io su allora poco ho giocato ho saltato da 10 giochi come faccio di solito anche perché al lavoro ultimamente sto solo grabbando video di roba per i social media eccetera quindi quando tomo non ce la voglio di giocare ancora ho giocato un po' a re fantasio metafora re fantasio perché avevo sentito avevo guardato la recensione round 2 che ne parlava la grande ho visto i voti 94 e vi dico a me mi ha fatto venire il latte e i coglioni ho giocato due o due ore so che il demo è molto generoso credo che sia 5 ore quasi quindi non ho fatto neanche metà sì sì è tutto il prologo che poi ti porti nel gioco è proprio il gioco non è una demo sì sì no beh è chiaro che è abbastanza cioè quella roba lì però allora l'immaginario è bellissimo bello il character design belle le cutscene che sono praticamente unanime bello il design dei personaggi interessante l'idea del mondo sdoppiato dove il fantasy di questo mondo è il mondo nostro e viceversa infatti il protagonista ha sto libro che lui legge lo chiama un romanzo fantasy e parla del mondo nostro con i grattacieli le auto quelle cose lì ci sono dei nemici stranissimi fatti tipo Bosch che vengono chiamati umani che è una cosa strana no nessuno spoiler Giorgetti è tutto nella nella presentazione sì ecco un po' meno bello il fatto che ci sono queste razze diverse uno sono tipo gli elfi uno sono dei tizi con delle delle cornette poi ci sono i furlis e poi ci sono sì ce ne sono alcune che insomma ah per questo Mottura gli piace le fantasie infatti però ecco cioè una volta che giochi per me è proprio poca roba è persona adesso ho avuto una discussione su Rinkas fa no ma è più simile a Shin Megami o no è più simile a Devil come si chiama l'altra serie che hanno Devil qualcosa è quella roba lì cioè inutile che ci giriamo attorno tu hai sto personaggio che ma non lo direi come se persona fosse una merda intanto no non è una merda ma cioè era un gioco che giocavo su PS2 mi sembrava vecchio all'epoca cioè onestamente sono passati io mi dissocio pubblicamente davanti sempre lo stesso gioco stanno facendo c'è il calendario come quelle cose lì il combattimento invece di avere le persone ti trasformi tu in una roba che è una persona fondamentalmente siamo lì le accuse che hanno fatto che sia molto simile ci può stare io ma l'aspettavo addirittura più simile io ho trovato almeno io anch'io ho fatto neanche ho finito il prologo ancora l'ho trovato che ci siano più differenze di quanto mi aspettassi rispetto a persona però persona è una roba figa ma al di là di questo cioè a me il combattimento comunque di persona non è che dispiace per quello che ho combattuto fino adesso non è niente di speciale però vabbè ok accettabile però ecco quello che mi ha deluso molto è il livello di scrittura cioè leggevo ah bellissimo il più bello cazzo è scritto come un bambino di due anni io ormai questa roba qui non riesco più a gestirla cioè è scritto in una lingua corretta grammaticalmente ma cioè quello che leggi non è io non l'ho trovato terribile solo nelle prime ore succedono veramente già tante cose cioè l'ho trovato super interessante di scrittura sono d'accordo con i pareri molto entusiastici no cioè io proprio l'ho trovato banale l'ho trovato proprio il livello jrpg che per me è un livello bassissimo il livello jrpg è lo scalino più basso della scrittura nei videogiochi cioè poi allora è un gioco di 60 ore succederanno delle cose bellissime perché anche in persona ci sono dei twist abbastanza interessanti però l'ho trovato cioè ti giuro che l'ho fatto in due sessioni mi dovevo tenere a un certo punto ho dovuto tenermi gli occhi aperti così però perché arrivi stanco di fare una roba di leggere persona 5 io mi sono aumentato di parte ci può stare questa è una cosa tua personale che la scrittura sia pessima non sono neanche d'accordo devo dire che secondo me l'intro qua rispetto a persona 5 l'hanno un po' cannata nel senso che veramente non ti fanno mai toccare il pad cioè tu fai veramente due ore nette io l'ho fatta live quindi non tocchi il pad persona 5 invece era ti faccio vedere subito il gioco e poi comincio a chiacchierare ecco poi scusa commento tinad perché a chi mi aveva fatto tutti quei commenti fa no è più simile a devil survivor come cazzo si chiama quella serie e io ho detto sfigato perché se tu capisci queste differenze fra queste serie che sono identiche allora vuol dire che non hai una vita fondamentalmente io qua rispetto molto la mia community non so se tu lo sai quindi non potrei mai dirlo a delle persone ma io sì perché non è la mia community senti visto che stai umiliando più te che noi parlando di refrantazio che non è il tuo non lo giocare ma l'hai comprato? no la demo no la demo già la demo mi sono stancato speriamo Dio che non lo compri perché è stato veramente pessimo ascoltare per me le demo non le devono fare perché le demo mi fanno solo passare la voglia di comprare i giochi sono d'accordo che secondo me se lo vuoi ti piace non cambia niente se non lo vuoi ti giuro ero casatissimo quando ho letto la review cazzo piace a tutti 94 sarà stupendo due parole al volo su Zelda le vogliamo dire l'hai giocato solo tu è chiaro sono l'unico che gioca qua dentro l'unico professionista vero io ho speso tutto in altro ho finito anche mi è piaciuto un po' meno di quanto mi aspettassi è un gioco carino si vede il grandissimo level design dietro è un gioco che si tiene in piedi nonostante tu possa fare mille cose il problema è che quando fai le tre cose che funzionano se non sei uno che gioca i videogiochi per sperimentare io non lo sono cioè che ti forzi tu a trovare soluzioni fighe fai quelle due cazzate ci fai tutto il gioco hanno veramente tolto la difficoltà per farti completamente questo e quindi l'ho trovato meno interessante poi sono sicuro che se ti metti a fare tutte le subquests te ne va in giro in un bel mondo un gioco che secondo me lo puoi veramente paragonare più a Breath of the Wild e Tears of the Kingdom che non è Zelda 2D cioè c'è un respiro completamente diverso funziona dura alle 20 ore quindi anche giusto però devi avere la voglia di metterci del tuo se no è un gioco non così eccezionale non è curioso che dopo l'esperienza di Breath of the Wild dove secondo me non avevano nemmeno completamente pianificato che la gente risolvesse gli enigmi in maniera così creativa poi hanno fatto Tears of the Kingdom dove chiaramente hanno giocato su quella cosa lì hanno detto vediamo gli strumenti fate il cazzo che volete la gente ha fatto le robe incredibili cioè a quel punto dovrebbero averlo capito che tu gli dai gli strumenti e poi la gente può risolverlo come vuole ma loro hanno fatto quello e la roba è incredibile si però se funziona sempre facendola la roba più banale non hanno fatto bene perché loro vogliono fare esattamente quello loro vogliono che un video gli uvara che non c'ha voglia di sbattersi con due cazzate se lo porta a casa ma danno la possibilità secondo me non era casuale neanche in Breath of the Wild cioè il loro tentativo è se invece sei quello che vuole fare le cose incredibili ti do un divertimento che è fuori di testa allora secondo me in Breath of the Wild ne avremmo pianificato un po' e poi la gente poi quella roba si apre però il fatto che non esploda mai il gioco secondo me è perché le hai provate le robe le hai tenute in considerazione se no succede anche la cosa che te lo rompe ok però se il divertimento deve trovarsi lo giocatore cioè non so però quelle sono punti di vista io quello non è il mio lo capisco l'ho accettato ho capito che io sono veramente un impiegato del catastro quando videogioco a me se mi dai un'arma che funziona non tocco la seconda non tocco il tasto dell'altra arma però so che ci sono un sacco di giocatori che invece in quello trovano il massimo del divertimento quindi perché negarmi io ho l'impressione che ad esempio tears of the kingdom se non ti impegnavi un pochino non andavi avanti no la porti a casa anche lì molto easy con le robe sempre forse più sagrari di bread of the wild perché quelli di tears of the kingdom invece sono molto banali alla base in the wild ce n'erano alcuni un po' dove c'erano degli enigmi adesso anche quello una nella mia pila della shame non l'ho ancora finito però c'erano dei semi coroc delle cose che dovevi inventarti un attimo come andare ah beh però era extra io quella se mi dovevi inventare schippavo per me l'extra è extra ce lo faccio se c'ho voglia però si la roba extra tendenzialmente sono come le monelio di mario per loro quella roba in più se vuoi sbatti un po' per carità di dio va bene quindi zelda sette e mezzo sette gli ho dato io non do i mezzi voti dal settantuno non ho mai dato i mezzi voti va beh io questo zelda qui mi interessa ma ci gioco sul successore di switch a forma di cubo di rubik che pensa che se la novità è che è una console tecnicamente inferiore a switch sarebbe una roba molto rivoluzionaria sarebbe una roba non intendo molto rivoluzionaria almeno secondo me esatto in cui gira tutto peggio guarda non me ne stupirei a tuo punto buonanotte va bene ciao ragazzi faccio partire il ride ciao Gary allora novità nella prossima puntata mi raccomando grandissime novità di Tommaso grandissime novità ciao sì un attimo che parte il ride ecco pronti ciao a tutti buonanotte ciao 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 Grazie.